a me sinceramente lei è sembrata particolarmente fuori contesto la tipica napoletana sulle Alpi e vabbè significa che tu sei quel preconcetto io sono di potenza sai che i terroni fanno la lotta tra loro dimmi Lucano dimmi dimmi esatto l'impressione era quella che lei non vedesse l'ora di terminare la registrazione per bere una cioccolata calda no per fare detto fatto io non penso come te lo dico col sorriso sulle labbra perché insomma io vivo la montagna cioè la montagna non è soltanto chi fa una scalata ma è un'idea è un concetto di vita che vivo da tempo poi se ti ho avuto questa impressione un po' mi dispiace ma un po' penso pure che sia legato a vedermi probabilmente con tacchi, vestitini e sapere dove sono nata